Quello che sta accadendo attorno all'Aquila Calcio è francamente imbarazzante. Se da lato i tifosi al grido che vuoi che sia in ogni categoria hanno già sottoscritto moltissimi abbonamenti, a prescindere dalla categoria diunque per riportare la gente allo stadio, il rimpallo di irresponsabilità è francamente assurdo. Ortolano ha rimandato la palla a Fabricini. Nella nota di riscontro, che arriva al termine di una riunione molto lunga, che si è conclusa solo nel tardo pomeriggio di ieri, lascia aperta in pratica una strada solo per la prima categoria, ribadendo che la missione straordinaria a un campionato diverso dalla terza compete solamente al presidente federale, in questo caso il commissario. La nota richiama l'articolo 52 delle NOIF e sottolinea come non si possa prescindere dal tenere in considerazione le attività già organizzate dal comitato, i campionati di eccellenza e promozione, e rilevando la considerazione di Fabricini sulla rappresentanza della città dell'Aquila con una squadra che partecipa per meriti sportivi alla promozione, che è in pratica il San Gregorio. Sull'argomento ieri sono intervenuti anche l'assessore Piccinini e il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Tinari, che hanno spinto chi di dovere ad assumere una decisione, qualsiasi ma purché in tempi rapidissimi. L'assessore Piccinini ha parlato di rimpallo di responsabilità tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e il Comitato Regionale della Liga Nazionale di Lettanti. Abbiamo scomodato e interessato i vertici dello sport italiano e rappresentanti della politica nazionale di primo piano, affinché venisse individuata una soluzione che garantisse una categoria degna della città capoluogo e della sua storia. Questa amministrazione, ha precisato anche Piccinini, ha intrapreso tutte le strade che poteva percorrere dal punto di vista istituzionale. I tifosi però ora sono stufi e se la prendono pure con la politica.